Ma che cazzo è? Buonasera Ma chi è lei scusi? Sono a Strupla Strubalini Non avevo aspettato visite Io sono un critico d'acqua di lusso E sono qui per testare il vostro livello di lussuosità acquosa Guarda d'acqua come siete messi? Ma chi è sta salvo? Il vostro livello di acqua è abbastanza dorsuoso Beh dipende, poi ogni tanto c'è un po' di reflusso gastrico Sai è piena di ferro, è piena di cose che non vanno bene Quindi qua abbiamo bisogno di un'acqua che sia rivoluzionaria Come vedete abbiamo la platurica Comunque è una marca Cos'è questo? Questa è un'acqua platurica Questa è una merda Assaggio Darò la mia valutazione in quanto critico Questa è la mia vocazione principale Da quando sono nato che ho il mal di gola E quindi ho dovuto in qualche modo trasformare questo mio disagio in una professione Ok un attimo Vai testi Che cazzo è sta merda? Qui c'è un grave problema Di poca lussuosità acquosa E a struppare a strupparini Dovrà risolvere tutto ciò Per vostra fortuna Vi ho portato un regalino Che cosa vi ho portato direttamente dal miglior food market italiano? Questa è ovviamente l'acqua di Chiara Ferragni Posso? Prego Con capela per favore con capela Ma lei Ma lei è un pusillanime Sì